Allora, pronto Michele? Sì, ti sento. Bene, perfetto. Allora, siamo al telefono con Michele Di Salvo, giornalista del giorno sul blog di Beppe Grillo. Ciao Michele, come stai? Sì, benissimo. Io per Roma è passata pure la pioggia, c'è il sole. Sei contento di questa nomination? Contentissimo, diciamo. Tra l'altro, a quanto so, a quanto mi dicono dei commenti, è solo una conferma di quello che ho scritto sin ad ora. A nostro fine hanno confermato in una domenica di tutto quello che ho scritto sin ad ora, quindi il più contento di oggi si muore. Allora, vogliamo leggere qualche commento così in diretta con te? Ma anche noi, il sole è spuntato, diciamo, lascio di 5 film alle loro... ai loro commenti. Anzi, non mi vedo la verità. Non so in quanti numericamente abbiano commentato, però... Eh, che è diverse centinaia. Diverse centinaia. E c'è stato molto bello la solidarietà di qualche 5 stelle, commentaggi pubblici, molti con messaggi privati. Poi, tra l'altro, io si definisco i tre della rete. Quantitativamente, a occhio, siamo a 20 tweet contro e 50-60 a favore. E il signor è stato nel consenso di Beppe. Se vuoi arrivare a nominarmi sul suo blog, va bene, ne prendiamo atto. Senti, te ne leggo solo due. C'è uno che dice, è bello come Rosy Bindi. E' bello? Come Rosy Bindi, riferendosi a te. Ah, e mi spazio per Rosy Bindi che torni ad essere un paragone di estetica. Poi c'è... Rosy Bindi è una donna molto in gamba. Poi c'è il classico faccia di cazzo, stoppa i finanziamenti pubblici per questi ruffiani, ma la penna di morte per questi esemplari ipocriti, egoisti e falsi no. E ti vedo bene disoccupato. Servo. Invece ho scritto questa occasione per precisare una cosa. E l'ho detto che io sarei pagato con i soldi pubblici, con i cittadini, non sono nemmeno giornalista e non sono pagato, diciamo. Quindi è tutto molto bello. Va bene Michele, allora grazie, buona passeggiata per Roma. E complimenti. Dopo questa nomination come cambierà la tua vita? Ma ci devo ancora pensare, devo chiedere al mio agente, e penso che passerò con la gente di Scanzi adesso e la mia vita veramente avrà una svolta. Va bene. E adesso provo a chiamare Andrea. Va bene. Buon blog allora. Ciao. Ciao, 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 ciao.